La magia del cinema è come aria leggera, come un soffio di vento che agita un albero e fa apparire i petali che cadono come fiocchi di neve. È un delicato omaggio al cinema quello di Cristina Comencini che dirige Latin Lovern, racconta la storia di Saverio Crispo, grande attore del cinema italiano, scomparso ormai da dieci anni, la sua famiglia multicolore, piena di figli e di moglie di diverse nazioni, si ritrova in un paesino pugliese per celebrarlo, dicevamo a dieci anni dalla sua scomparsa. Francesco Scianna è il protagonista, si vede solo nei flashback, è un omaggio al cinema italiano e a tutti i suoi grandi attori, Scianna rifà il verso molto bene, c'è da dire a Vittorio Gasman, alcune sequenze sono rubate, un film nel film è quello che lo spettatore si trova a dover fare, a dover recuperare. Si vede il sorpasso all'armata Brancaleone, volontè operaio Giuliano Gemma cowboy, una comunità femminile che si ritrova ancora una volta a sperare che sia femmina, a ricordare questo grande uomo, a ricordare soprattutto il cinema. La Comencini, figlia d'arte, sorella d'arte, scrive il film assieme alla figlia Giulia Calenda, con un grosso motto di rimpianto e di nostalgia, con un occhio languido a un cinema che non c'è più.